E' lo che che fa, è per il dolore della città. E' lo che che fa, è per il dolore della città. Domani alle 11 invece è prevista la rifinitura che anticiperà la consueta conferenza stampa della vigilia del tecnico Granata Roberto Boscaglia. Per quanto riguarda la situazione, infortunati si profila un lungo stop per il centrocampista Matteo Scozzarella che a seguito degli esami strumentali effettuati presso la clinica Villa Stewart di Roma ha avuto diagnosticata la lesione del legamento collaterale esterno del ginocchio destro. Il numero 5 Granata nei prossimi giorni dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Insieme a Scozzarella l'altro assente sicuro per la partita di sabato sarà l'attaccante Antimo Junko alle prese con un problema muscolare che lo terrà lontano dai campi di gioco per almeno un mese e mezzo. Buone notizie invece arrivano da Pavel Vidano che è ripreso a correre e a lavorare in palestra sta quindi recuperando dalla contusione con Emotoma al polpaccio destro. Il terzino bulgaro rientrerà in gruppo a partire dalla prossima settimana. Certa l'assenza di Maurizio Ciaramitaro squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo il rosso incassato domenica scorsa nel derby contro il Catania. I diffidati per il Trapani sono due, Andrea Feola e Francesco Lobue. Torna invece a disposizione dopo il turno di stop forzato il centrocampista Granata Mattia Ramo che dopo la convocazione con la nazionale Under 20 della settimana scorsa lunedì prossimo riceverà presso il Museo del Calcio di Coverciano il premio come miglior attaccante nella categoria 1995 nell'ambito della terza edizione della Giovane Italia e talenti del futuro. Un premio che fa riferimento all'ottima annata 2013-2014 disputata dal giovane Granata con la primavera del Torino e all'inizio della corrente stagione con la maglia del Trapani. Un riconoscimento che il numero 28 Granata ha commentato così. Giovedì scorso la prestigiosa convocazione nella nazionale Under 20 e lunedì al Museo del Calcio di Colverciano Mattia Ramo ritirerà il premio come miglior attaccante 1995 nella terza edizione della Giovane Italia e i talenti del futuro. Mattia sei soddisfatto? Sì sono molto soddisfatto di questo premio giovedì scorso sono stato molto contento della convocazione di Evani dell'Under 20 questo è un premio che mi fa molto piacere ricevere devo continuare su questa strada e continuare così. Fa parte del reparto difensivo il protagonista della nostra consueta intervista all'interno dello spettacolo Siamo Noi News è il difensore Granata Mattia Caldara che andiamo a conoscere meglio grazie a questa intervista realizzata prima della seduta di allenamento. Mattia Caldara scuola Atalanta a Trapani da questa estate il calciatore Granata che conosceremo meglio nell'ambito della nostra rubrica. Mattia sei entrato al 33esimo del secondo tempo di una partita importante domenica scorsa il derby col Catania raccontaci le tue emozioni di quel momento. È stata una sorpresa anche per me perché si è fatto male l'Obue e quindi non dovevo neanche entrare se magari non si fosse fatto male quindi è stato un po' tutto veloce, rapido non ho neanche connesso all'inizio che ero quasi entrato però devo dire che fortunatamente siamo riusciti a mantenere un pareggio che in quel momento era molto importante perché eravamo sotto di un uomo e loro stavano attaccando molto quindi sono contento che siamo riusciti a mantenere questo pareggio e abbiamo portato a casa un punto molto importante. Tu sei uno dei più giovani della nostra squadra qual è il contributo che voi giovani potete dare al Trapani? Quello di essere pronti ogni volta che il mister si chiama in causa e di aiutare il più possibile questa squadra, la società a arrivare più in alto possibile in classifica. Le tue aspirazioni personali quali sono? Le mie aspirazioni sono quelle di giocare il più possibile e di essere pronto quando sarà il mio momento e di ripagare la fiducia che in questi mesi sto avendo sia dalla società che dal mister che da tutto lo staff. Se dovessi descrivere Mattia Caldara come calciatore e come ragazzo che diresti? Io sono un ragazzo molto timido, infatti preferirei restare dietro ai riflettori perché non è da me andare a fare o mostrarmi quindi sono un ragazzo molto schivo e cerco di lavorare ogni giorno per cercare di raggiungere il mio sogno. Il Trapani come una grande famiglia, dalla tua esperienza sei qua, appunto abbiamo già detto da questa estate è così? E poi con quale dei tuoi compagni hai legato di più? Con i ragazzi più giovani come Cristiano, Lombardi, Mattia, Aramu, Feola che comunque essendo più o meno della stessa età ci stiamo trovando e siamo riusciti a avere anche un legame fuori dal campo e credo sia molto importante perché per avere una grande squadra bisogna avere un affetto sia dentro al campo ma soprattutto fuori dal campo per cercare di essere più uniti possibili. E ora parliamo di calcio, del nostro campionato sabato c'è il Bari per la quindicesima di campionato e c'è un Trapani che deve dimostrare di essere lo stesso Trapani che siamo abituati a vedere al provinciale? Sì, fuori casa facciamo più fatica ad esprimere il nostro calcio perché qui in casa abbiamo dimostrato che possiamo vincere contro tutti ne è testimone il primo tempo di domenica contro il Catania e quindi dobbiamo cercare di avere la stessa mentalità che abbiamo qui fuori casa e il Bari è proprio un'opportunità molto importante per far vedere a tutti che possiamo dire la nostra anche fuori casa. Cosa ti preoccupa di più del Bari e quali pensi possano essere i punti di forza del Trapani per affrontare questa partita? Il Bari sappiamo che è stato costruito per salire in Serie A quindi tutti i giocatori sono pericolosi. Gli attaccanti come De Luca che è molto rapido, galano che sappiamo avere grandi qualità dobbiamo cercare di contenerli per poi ripartire e cercare di fargli male quando loro meno se lo aspettano. Il fatto che abbiano cambiato allenatore secondo te può essere un valore aggiunto? È una situazione molto difficile quella che sta vivendo adesso Bari sicuramente con il nuovo allenatore tutti i giocatori cercheranno di dare il massimo per far vedere che c'è stato un cambiamento di rotta e quindi noi siamo pronti dobbiamo sapere che sarà una partita tosta ma se giochiamo come sappiamo abbiamo grandi possibilità di vincere. Noi solitamente chiudiamo le nostre interviste con un appello allo stadio ovviamente si gioca fuori casa e quindi semplicemente invitiamo i nostri tifosi a sostenerci sempre? Sì, i nostri tifosi ci hanno seguito da tutte le parti in trasferta quindi dobbiamo cercare di rendere le loro trasferte sempre più gioiose cercando di fare grandi risultati e speriamo sabato di riuscirci. L'arbitro della partita Bari-Trapani sarà il signor Gianluca Aureliano della sezione di Bologna sono sette precedenti di Aureliano con i Granate il bilancio dice cinque pareggi e due vittorie per i Granate che ritrovano il fischietto bolognese dopo averla avuto nel match dello scorso settembre a Carpi gli assistenti di gara saranno Luca Mondini di Treviso e Maurizio Detroia di Termoli il quarto uomo sarà invece Luciano di Lamezia Terme Passiamo al programma del settore giovanile di questo fine settimana turno di riposo per gli allievi mentre tutte le altre squadre del settore giovanile scenderanno in campo domenica la primavera di mister Garzia affronterà il Varese in trasferta alle ore 15 i giovanissimi professionisti di mister Di Benedetto giocheranno alle 11 presso il centro sportivo Roberto Sorrentino contro il Catanzaro mentre alle 10 presso il campo comunale di Fulgatore i giovanissimi regionali affronteranno l'Accademia Sport Trapani in una gara valevole per la decima giornata infine i giovanissimi sperimentali alle ore 15 affronteranno in casa il Marsala 1912 chiudiamo questo nostro appuntamento anticipandovi che è in uscita il nuovo numero di Mondo Granata e la rivista ufficiale del Trapani Calcio all'interno di questo terzo numero troverete le foto del concorso fotografico lo spettacolo Siamo Noi a cui hanno partecipato i nostri sostenitori le immagini più belle dal ritiro e le foto ufficiali di tutte le squadre del settore giovanile un numero sicuramente da conservare con la foto ufficiale del Trapani 2014-2015 le schede di tutti i calciatori e i progetti della società sullo stadio senza barriere tutti gli abbonati possono ritirare la loro copia di Mondo Granata presso lo store del Trapani Calcio in via Palmerio Abate numero 10 mentre sarà in edicola in distribuzione dell'edicole di Trapani a partire da lunedì al costo di 2 euro dal provinciale è tutto, vi ricordo l'appuntamento con la partita a Bari-Trapani in programma sabato alle ore 15 mentre l'appuntamento con lo spettacolo Siamo Noi News è per la prossima settimana